Ciao a tutti oggi prepareremo la granita al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono ghiaccio zucchero e limoni pelati a vivo diamo il via alla ricetta abbiamo preso il ghiaccio dal congelatore cinque minuti prima di iniziare la ricetta adesso metteremo nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il limone ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 unire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il ghiaccio ed azionare il bimbi con la spatola al posto del misurino per un minuto a velocità 10 la granita è pronta serviamola granita limone grazie e alla prossima ricetta a velocità